La grandeste città di questi ultimi mesi, il caldo e il vento, tutti i fattori che hanno favorito un incendio di un campo di frumento a Bernate Ticino, incendio che ha ridotto in cenere 120.000 metri quadrati di raccolto. Durante il pomeriggio di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che erano molto alte e nei pressi di abitazioni, oltre che di capannoni industriali. Sono intervenuti d'urgenza i pompieri volontari di Inveruno con tre mezzi e dieci uomini in supporto. Successivamente sono arrivati anche i colleghi di Legnano con due mezzi. La lunga colonna di fumo salita al cielo era ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono giunte, come detto, le squadre dei vigili del fuoco volontari di Inveruno per le operazioni di spegnimento. L'incendio è accaduto a Bernate tra via Milano e via delle industrie dove sono andati a fuoco 120.000 metri quadrati vicino a case e fabbriche. La polizia locale ha chiuso le vie limitrofe per il fumo e le fiamme che sono arrivate vicino alla strada. I vigili del fuoco si sono schierati subito a protezione delle case e delle aziende tagliando il fronte del fuoco. Oltre due ore di lavoro per i pompieri fortunatamente non è rimasto ferito nessuno a causa di questo incendio. Alla fine delle operazioni di spegnimento del fuoco sono partite le attività di bonifica su tutta l'area. Ingenti i danni economici per le aziende agricole che hanno visto letteralmente andare in fumo il raccolto di grano di quest'anno. Ingenti i danni economici per i pompieri fortunatamente non è rimasto ferito nel fuoco il fuoco.